questa canzone è stata richiesta da michele pezzotti per l'abbonamento del livello 5 quindi come premio unico ecco a voi un piccolo video speciale prego un saluto per il fenomenale e a tutti i fan del fenomenale che il t-rex sia con voi grandiosi grandiosi grazie per il supporto una sola premessa in questo video qua raga questa canzone che canterò è una canzone coreana e io purtroppo non sapendo le parole in coreano ho letto le parole come stanno scritto più di questo non potevo fare altro ma in ogni caso raga l'importante è il divertimento quindi buon divertimento a tutti questo è il mio paese woppa gamma style gamma style non c'errù tassarù si ne irdrioni io già carino giallo io penaggio e be in e io già Insigne Scan ad Essere il giorno e si in Nammusana e Nacabutari intime intime sulti chiam beh What Choco Quanta Non Con anche Prof外 No kook E Santic La Ad O Si Ed O Kur No Run U Dop Gada da da wo, gada da da wo Guro no, guro no, no È t'è bu da gada del gada di qua 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 Woppa gamma style Gamma style Woppa gamma style Gamma style Gama style. Saxolated. Ope, 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 ope. Gama style. Saxolated. Ope, 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 ope. Ope, 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 ope. Ope, 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 ope. Ope, 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 ope. Ope, 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 ope. Ope, 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 ope. Sexy lady. Ope, 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 ope. Ope, 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 ope. Ope, 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 ope. Wapagama style. Ope, 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 ope. Ope, 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 ope. Ope, ope, ope. Grazie.